Non lo vuoi con lui, è una scultura moderna, e cosa rappresenta? Secondo me è un re innamorato, poi non lo so. Perché? Dal cuore lo vedi? E secondo voi? Dalle corne, vedevo che è stato fatto col mondo. Dal cuore, io sono romantica, quando mi dice testo però. Alve signora, ciao! Ma la testa quale, quella che hai messo in piscina? Eh, signor Tolce.